Cos'altro devo ordinare? Il latte c'è. Frutta e verdura ci sono. Non ci serve niente. Ordina le costolette, sono finite. Probabilmente le hai mangiate tutte tu. Ma cosa dici? Le ho date ai clienti. Ragazzi, oggi c'è l'inaugurazione della nuova pista di pattinaggio. Dobbiamo organizzarci per servire cibo all'aperto. Wow, finalmente avrò la possibilità di usare la mia nuova griglia. Meglio vestirsi in modo pesante. Oh, non riesco ad abituarmi ai vestiti invernali. E cosa vuoi farci? È inverno. Tutti pronti? Sì! Sì! Allora andiamo! È ora di fare le salsicce! Salsicce! Salsicce direttamente dalla griglia! Mamma, andiamo! Andiamo! Guarda cosa sto a fare! Brava, tesoro! Arrivo! È da un po' che non partino sul ghiaccio! Stai facendo un ottimo lavoro, mamma! Mi brontola lo stomaco! Ho fame! Vai a mangiare qualcosa! Uuuuh! Prendo una salsiccia o un hot dog! Prendili entrambi! Sono gratis oggi! Io mangerò l'hot dog e darò alla mamma la salsiccia! Era delizioso! Mamma! Uuuuh! Tutti adorano i miei hot dog! Uuuuh! Ah! Sono distrutta! Fai una pausa! Ti ho preso una salsiccia! Mmm! Grazie, tesoro! Spero che ti piaccia! Uuuuh! Le bevande sono pronte! Oh! 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 È questa la nuova pista di pattinaggio? Sì! Sei nel posto giusto! Oh! Oh! Mi hanno chiesto di venire qui a suonare la tromba! E' divertente con la musica! Oh! Ah! È così scivoloso! Oh! Ciao! Possiamo avere un po' di tutto, per favore? Maui, fai ancora un po' di salsicce! Le abbiamo finite! Capito! Sono già all'opera! Mmm! È fantastica! Oggi è stato un successo! Prindiamo alla nuova pista di pattinaggio! Woohoo! Aaaaaaah! È decisamente scivoloso! Nippa! Ha ha ha! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info